Se consideriamo i racconti evangelici, quelli del Nuovo Testamento canonico, relativi alla passione e morte di Gesù, dobbiamo convenire che essi contengono molte contraddizioni e inverosimiglianze. Iniziamo considerando il tempo che intercorre fra l'arresto e la sepoltura. Si tratta di circa 18 ore, un intervallo assolutamente inverosimile e adesso vedremo perché. In questo breve periodo le narrazioni di tutti e quattro i Vangeli accumulano una serie di eventi che, nella realtà, avrebbero richiesto alcuni giorni. Di che si tratta? 1. Innanzitutto l'arresto avvenuto intorno alla mezzanotte sul Monte degli Ulivi, dove una intera coorte di soldati romani mandata da Ponzio Pilato, affiancata da alcune guardie del tempo, era intervenuta, aveva ingaggiato un modesto scontro con i seguaci di Gesù e lo aveva prelevato portandolo via in catena. 2. A questo punto, stando alla narrazione del quarto Vangelo, l'arrestato sarebbe stato condotto a casa di Anna, suocero del sommo sacerdote. 3. Successivamente, se dobbiamo dare retta ai resoconti sinottici, sarebbe stato portato anche a casa del sommo sacerdote Caifa, dove, presente tutta l'assemblea del Sinedrio, sarebbe stato istruito un processo in condizione di totale irregolarità, che si sarebbe concluso con la condanna a morte per blasfemia, in quanto Gesù si sarebbe dichiarato figlio di Dio. Concluso questo processo farza, e siamo al quarto punto, all'alba ci sarebbe stato il trasferimento del condannato al pretorio romano, presso la torre Antonia. 5. Qui sarebbe iniziato l'interrogatorio da parte del Prefectus Ponzio Pilato. 6. Costui avrebbe quindi deciso di far comparire Gesù di fronte al tetrarca della Galilea, Erode Antipa, quello che aveva fatto giustiziare Giovanni Battista, perché in quei giorni si trovava a Gerusalemme e, pertanto, l'imputato venne trasferito presso il palazzo di Erode. 7. Il sovrano Antipa, se sarebbe limitato a schernire Gesù, lo avrebbe fatto rivestire con un abito bianco e lo avrebbe rimandato indietro al pretorio romano. 8. A questo punto sarebbe iniziato un autentico processo, conclusosi col rilascio di un enigmatico prigioniero conosciuto come Bar Abba, espressione aramaica che significa figlio di Dio, e con la condanna a morte di Gesù per crocifissione. 9. Secondo la prassi romana si sarebbe quindi svolta la flagellazione con lo scherno dell'intera corte romana, che avrebbe sbeffeggiato Gesù addobbandolo come un re fantoccio. 10. Quindi sarebbe seguito il trasferimento verso il luogo del supplizio, la cosiddetta via Crucis, durante la quale il condannato avrebbe dovuto portare sulle spalle lo Stipes, il bastone orizzontale della croce, ma stando ai risocconti sinottici, questo sarebbe stato portato da un'altra persona, un certo Simone di Cirene. 11. Giunti sul cosiddetto Golgota, Gesù sarebbe stato inchiodato e issato sulla croce, e secondo il Vangelo di Marco questo sarebbe successo alle nove del mattino. 12. Gesù, in maniera del tutto insolita, sarebbe ispirato poche ore dopo, nel primo pomeriggio. 13. Dunque, anche questo in modo del tutto insolito, sarebbe stato deposto da Giuseppe di Arimatea e Nicodemo, due sinedriti, insieme ai membri della sua famiglia. 14. Tutti costoro avrebbero proceduto alle operazioni di inumazione. 15. E, in conclusione, lo avrebbero sepolto in una tomba nuova di proprietà dello stesso Giuseppe di Arimatea. È ovvio che tutte queste cose non potevano svolgersi in 18 ore, e fra le tante vogliamo cominciare a discutere sul tempo occorso per il decesso. A detta di tutti gli esperti di storia romana, che ben conoscono le modalità e i tempi della crocifissione, questa rapidità nella morte di Gesù è piuttosto strana. I romani avevano riservato ai ribelli questa forma di esecuzione, proprio perché con la lunga durata dell'agonia esercitava sul popolo l'effetto di un monito dissuasivo, come dire guardate cosa succede a chi osa ribellarsi al potere imperiale. Le ferite alle mani e ai piedi non erano certo sufficienti a produrre il decesso, e il condannato poteva rimanere appeso a soffrire impietosamente anche per tre, quattro o più giorni. Durante questo tempo il peso del corpo rendeva difficoltosa la respirazione e il disgraziato cercava sollievo innalzandosi sulle gambe per alleggerire l'effetto sul torace. In effetti quando i romani decidevano che era l'ora di farla finita praticavano il cosiddetto crurifragium, spezzavano le gambe del condannato. In tal modo costui non riusciva più a sollevarsi, non poteva più respirare e il soffocamento sopraggiungeva in breve. In effetti gli altri due condannati che si trovavano ai lati di Gesù subirono questo trattamento, che però non fu usato nei confronti di Gesù. Costui infatti, issato a metà mattinata, appariva già deceduto nel primo pomeriggio. Per ben due volte gli era stato offerto qualcosa da bere. La prima volta, un istante prima di essere inchiodato sulla croce, gli fu dato vino mescolato con mirra, probabilmente allo scopo di stordirlo ed alleviarne le sofferenze. La seconda volta, invece, quando ormai era sul patibolo da quattro o cinque ore, tramite una canna gli fu avvicinata una spugna imbevuta di aceto. Tutti e quattro i Vangeli sono concordi su un fatto. Sembra che l'aver bevuto l'aceto sia stato decisivo e fatale, perché in tutti i casi il decesso avvenne un istante dopo, al punto da apparire come una conseguenza di questa somministrazione. Viene davvero spontaneo domandarsi se quella spugna imbevuta di aceto non contenesse in realtà qualcosa che ha prodotto la morte o piuttosto una condizione simile alla morte. Sostanze ad effetto narcotico in grado di generare la catalessi erano ben conosciute all'epoca e molti secoli dopo Shakespeare ce ne dà un esempio a proposito di Giulietta Capoletti. Giuseppe di Arimatea e Nicodemo, che erano addirittura stati da Pilato a dirgli che Gesù era già morto e a chiedergli in concessione il corpo, potrebbero essere stati gli artefici di questo piano nella speranza di salvare il Maestro dalla morte. Poiché Gesù era stato giustiziato in un giorno prefestivo e secondo la legge ebraica era proibito lasciare i cadaveri appesi nel giorno santo, i Giudei chiesero ai Romani che i condannati fossero rimossi. Sappiamo infatti che per gli ebrei il giorno non cambia a mezzanotte, ma subito dopo il tramonto quando nel cielo compaiono le prime tre stelle. A questo fine si procedete al crurifragium degli altri due condannati. Il quarto Vangelo ci dice che uno dei soldati colpì il fianco di Gesù con una lancia provocando l'uscita di sangue e acqua. Ora nessuno ci ha mai raccontato che questo dettaglio era presente anche negli antichi manoscritti del Vangelo secondo Matteo, oggi censurati. Infatti nelle versioni moderne è stata eliminata dal verso Matteo 27, 49 la frase un altro uomo prese una lancia e gli trafisse il fianco e ne uscirono sangue e acqua. Si faccia bene attenzione perché questa potrebbe essere proprio la ragione della censura. L'autore del gesto nel brano censurato non fu un soldato romano ma un altro uomo. Ora molti notando che la fuoriuscita di sangue, notando la fuoriuscita di sangue e tutti sanno bene che i morti non sanguinano, hanno avanzato l'ipotesi che Gesù in quella circostanza fosse ancora vivo. Un medico italiano tal Giancarlo Rosati sostiene quanto segue. Nella pratica medica quel colpo di lancia si chiama toracentesi ed è il drenaggio di fluido nello spazio pleurico, fluido che si accumula in genere per uno scompenso cardiaco. Il colpo di lancia consentì dunque di recuperare Gesù prima che il cuore si arrestasse. Se così fosse, veramente Giuseppe di Arimatea e Nicodemo stavano mettendo in pratica il loro piano per salvare Gesù dalla morte. In effetti anche la concessione del corpo di Gesù da parte di Pilato costituisce un grosso indizio. Si tratta di un'eccezione importante perché i romani non concedevano nessun rito funebre ai condannati, i quali venivano brutalmente gettati in una fossa comune in preda agli avvoltoi e ad altri animali. Adesso possiamo fare un'osservazione molto interessante. Infatti tutti e quattro i Vangeli a riguardo del corpo di Gesù non hanno usato il termine cadavere, spoglia, salma che in greco si rende con ptoma, ma il termine soma che significa generalmente corpo e si riferisce ai copi viventi sia umani che animali. Invece nel caso di Giovanni Battista venne usato proprio il termine ptoma, cadavere. Insomma abbiamo due sepolture con due terminologie diverse, sembra quasi un segnale. Quindi Gesù sarebbe stato portato in un giardino privato di Giuseppe di Arimatea dove costui aveva fatto scavare una tomba nuova nella quale non era stato ancora deposto nessun altro. E Nicodemo portò qualcosa di straordinario, 100 libri di una mistura di mirra e aloe. Se facciamo i conti, considerando il valore della libra romana, si tratterebbe complessivamente di 33 kg, i quali avrebbero occupato un volume di quasi 36 litri. Ma cosa dovevano fare con quella quantità industriale? A questa domanda affianchiamone un'altra. Perché Gesù fu portato in una tomba nuova e vuota appena scavata nella roccia? Con tutte le considerazioni che abbiamo fatto finora una sola risposta sembra emergere in modo quasi automatico. Il corpo del condannato doveva essere rianimato e curato perché Gesù era ancora vivo. Questo spiegherebbe in modo abbastanza logico la scelta del redattore del Vangelo di Marco. A differenza di quanto leggiamo nelle traduzioni moderne, egli non scrisse che Gesù era risuscitato dai morti, ma nell'episodio in cui le tre donne si recano di prima mattina in visita alla tomba, fa dire ad un misterioso giovane vestito di bianco che siede nel sepolcro vuoto, si è risvegliato, non è qui. Questa precisazione è oggetto di un altro filmato che io ho prodotto in cui la cosa è spiegata molto dettagliatamente. Si intitola Nella prima tradizione evangelica non c'era alcuna resurrezione. Naturalmente tutto quello che abbiamo detto finora non è finalizzato al raggiungimento di certezze storiche, perché non sarebbe serio da questi indizi pretendere di ricavare certezze storiche, ma semplicemente a formulare un ventaglio di ipotesi fra le quali, come abbiamo visto in altra sede, esiste anche quella che Gesù non sia affatto stato crocifisso, oppure che i personaggi storici nascosti dietro al protagonista della narrazione evangelica in realtà fossero due come sostenuto nei rotoli del mar morto, un messia politico detto messia di Israele e un messia spirituale detto messia di Aronne. L'unica certezza è quella che la redazione dei Vangeli canonici contiene molte difformità rispetto agli eventi storici dovute principalmente al fatto che questa redazione ha seguito la linea revisionistica creata da San Paolo piuttosto che quella coerente con la predicazione originale di Gesù.